Innanzitutto dobbiamo dire che ieri abbiamo avuto già il decreto firmato in pochissimo tempo e soprattutto anche già autorizzato in termini finanziari dalla Regioneria di Stato perché sono stati destinati 2 milioni e 600 mila euro a seguito appunto della sollecitazione che abbiamo potuto fare al MIPAF lunedì. E contestualmente diciamo a questa sollecitazione abbiamo chiesto che il 27 di poterci rincontrare al Ministero per poter definire anche il decreto che ci permette di andare in deroga a tutta una serie di situazioni che ci servono appunto per intervenire nell'immediatezza. Il problema è un problema molto importante che va valutato in maniera scientifica e soprattutto va valutato anche in relazione alla tipologia di interventi che bisogna mettere in atto. Dopo il 27 inizieremo immediatamente con le attività di monitoraggio all'interno delle fasce tamponi e successivamente interverremo con i trattamenti sia erbace che arbore all'interno della fascia tampone e poi contestualmente cominceremo anche a intervenire all'interno dell'area infetta. Noi abbiamo iniziato a lavorare da circa un anno su questo problema appena abbiamo verificato la presenza del patogeno e sono stati fatti 16.000 campioni, sono stati fatti 16.000 analisi, sono stati fatti tutta una serie di incontri e studi che ci hanno permesso appunto di definire la tipologia di intervento. Non dobbiamo neanche dimenticare che il risultato portato a casa dalla comunità europea è stato grazie al fatto che l'osservatorio fitosanitario regionale ha messo in atto tutta una serie di procedure che sono state imposte dalla Commissione europea per cui abbiamo cercato appunto di fare le cose fatte per bene. Purtroppo il fenomeno è un fenomeno importante che si sta estendendo e che dobbiamo assolutamente cercare di intervenire perché il fenomeno si arresti. Non possiamo permetterci di non presentare al Ministero delle risoluzioni che siano tali quindi noi oggi chiediamo con forza l'assessore un cambio di passo che sia decisivo diciamo che si è fatto tanto da un punto di vista della ricerca scientifica ma non si è fatto abbastanza per quella che è l'esatta delimitazione del problema e questo credo è una risposta che noi dobbiamo sicuramente anche alla comunità europea e al resto del mondo olivicolo pugliese e nazionale. Quindi sotto questo aspetto non possiamo più avere indugi e dobbiamo necessariamente passare ad un innalzamento del livello di attenzione. Abbiamo la necessità e il dovere di dare delle risposte ben più precise agli olivicoltori in particolare ai nostri associati per quanto riguarda il seguito dove chiederemo logicamente la partecipazione, la grande partecipazione e questo siamo sicuri che ci sarà da parte degli olivicoltori perché vogliamo tutti risolvere il problema ma chiaramente dobbiamo farlo in modo tale da poter dare giuste risposte anche in termini economici.